Il gruppo BMW già da molti anni investe in innovazione e ricerca anche, grazie ad alcune attività di venture capital in giro per il mondo, l'innovazione soprattutto nel mondo digitale che i giovani possono portare. Da subito Open Italy ci è sembrata un'iniziativa stupenda che in Italia potesse stimolare con il supporto di tante grandi realtà e grandi aziende proprio questo tema anche nel tessuto italiano. BMW è molto presente in Italia non solo come attività commerciale ma anche acquistando un miliardo e mezzo di componentistica nel nostro paese, quindi lavora con aziende italiane e ha a cuore quindi l'innovazione che il nostro paese da sempre porta anche per i contenuti dei nostri prodotti. E lì c'è una bellissima realtà, una realtà che lavora su temi che sono molto a cuore anche al gruppo BMW, la responsabilità sociale d'impresa è un tema molto importante per noi, avere una realtà con cui collaborare che lavora proprio a colmare il gap tra la scolarizzazione, il lavoro e quindi fare in modo di stimolare i giovani a trovare nuove vie per entrare nel mondo del lavoro, nel mondo dell'impresa, ci è sembrato da subito una bellissima realtà, no profit, tra l'altro quindi un'ottima partenza che sicuramente ci vedrà collaborare anche il futuro.